adesso anche con le ginocchia lavori molto meglio attenzione, quella parte lì vedi come sei più centrale lì e lì ti arretti sempre un pochettino sempre un pochettino dall'altra parte molto meglio guarda, su bene anche la distensione adesso è fatta molto bene prima era un po' troppo di scatto invece la distribuisci meglio fai attenzione che la curva verso destra ancora un po' di arretramento questa era una semi serpentina però già meglio, meglio, non segui più col busto guarda, guarda movimento, tempo giusto l'appoggio è fatto nel bastoncino ritmo, guarda che ritmo adesso ho cambiato un po' il ritmo e direi